Ciao a tutti, nell'ultimo articolo sul mio blog ho accennato alle morti dei giornalisti in Russia. Allora adesso allargo un po' l'argomento e parlo un po' della libertà di stampa. Voi sapete benissimo che, secondo alcune statistiche, la Russia è considerata un paese con poca libertà di stampa. Adesso non ricordo in che posizione si trova in classifica, però secondo varie organizzazioni è un paese in cui la libertà di stampa è in difficoltà. Allora mi ricollego con quello che scrivevo sul blog perché se andiamo a vedere queste statistiche ci sono anche le statistiche in Russia regione per regione. E allora si può vedere che la questione non è uniforme. Ci sono delle zone della Russia in cui la libertà di stampa è quasi negata e in altre zone in cui invece è considerata più che sufficiente. Per esempio nella zona di San Pietroburgo e di Mosca. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in alcuni posti si può parlare male del governo e in altri no? No, semplicemente, come scrivevo nel mio blog, sono specialmente gli argomenti di natura locale che incontrano più difficoltà a passare nella stampa perché ci sono i vari signorotti o mafiosi, può essere anche quello, del luogo che impongono i loro filtri oppure nel caso questi filtri non siano rispettati passano alle maniere forti. E questo purtroppo è una verità. Ricordo comunque che negli ultimi due anni non è morto, non è stato ucciso nessun giornalista e quindi la situazione va più o meno migliorando. Ma dopo, allora dicevo, questi giornalisti in Russia possono criticare il governo oppure no? Beh, se ci sono delle zone che sono libere e sono le più principali, le più popolose come Mosca e San Pietroburgo, vuol dire che ovviamente si può. Infatti, non ve lo dico io, ma ci sono un sacco di giornali e canali televisivi meno, però ce n'è qualcuno di opposizione. Giornali e siti internet ce ne sono molti. C'è l'Ecco di Mosca, è un giornale abbastanza famoso, poi c'è Novea Gazeta, è quello della giornalista Anna Politkovskaya che era stata uccisa nel 2006, probabilmente per i suoi articoli sulla Cecenia. E poi ce ne sono, beh, di siti internet ce ne sono tantissimi. Senza contare poi che ci sono molti, molte reti e siti di informazione esteri. Per esempio, la BBC stessa ha una sezione in russo, una sezione del suo sito in russo, quindi che sono proprio notizie riportate dalla Russia, hanno giornalisti a Mosca, ci sono un sacco di testate internazionali che hanno giornalisti a Mosca, alcuni dei quali scrivono per il pubblico russo. E di questi qua non mi risulta che sia mai stata riportata alcuna intimidazione o ritorsione o violenza. Ecco, questi svolgono il loro lavoro in totale libertà, come tutti gli altri quando si parla di governo. Ecco, questo era per mettere un fatto. Ecco, dopo, cosa vuol dire che però, voi potete dire, ma questo è in diretta contraddizione con le statistiche che mostrano che la libertà di stampa in Russia è quasi inesistente. Beh, no, non è in contraddizione. C'è un altro aspetto che bisogna considerare, che riguarda la libertà di stampa, che va al di là della violenza o delle intimidazioni. C'è il fatto che Putin è estremamente popolare, è davvero molto amato. Secondo statistiche anche occidentali, la sua popolarità si gira attorno all'80%. Adesso provate voi a immaginare in Italia, se ci fosse un politico che ha l'80% di popolarità, di consenso popolare. Immaginiamo un'Italia totalmente soddisfatta di Renzi, per esempio, di Berlusconi, un giornale, una televisione che si trovasse a criticare costantemente il primo ministro, il capo del governo, in un paese in cui c'è questa persona goda dell'80% di popolarità, avrebbe moltissime difficoltà, ma non perché sia il governo ad imporle, perché semplicemente la gente non vuole sapere queste cose, non vuole sentire queste cose perché si sta offendendo, o si sta, come si può dire, criticando un leader che loro stimano. è un po' come i fanatici di calcio, eccetera, è come una squadra di calcio in un certo punto. Ma a parte i lettori, i lettori sono chiaramente il motivo principale, la causa ultima per cui questo avviene, il fatto che la popolazione non è contenta di alcuni articoli, non è che poi esprime questo malcontento in maniera violenta, questo assolutamente no, però chiaramente pensate agli inserzionisti pubblicitari, queste cose le guardano, quindi magari non cercano o stanno bene attenti a pubblicare pubblicità su siti o giornali che criticano fortemente il governo e sanno che sono antipatici alla gente. Dopo ci sono molte altre difficoltà che i giornalisti critici del governo possono incontrare, pensate per esempio anche sulla questione di affittare uno studio, uno studio televisivo o giornalistico. se tu sei un convinto sostenitore del Partito Democratico e hai un appartamento che puoi affittare e ti arriva la richiesta da un gruppo di giornalisti che sai che scriveranno tutto il male possibile sul partito che tu sostieni. Tu gli affitti l'appartamento? Lo studio? Forse no, forse no, non perché tu sia contro la libertà di stampa, Mari tu sei assolutamente a favore, però comunque dici, vabbè, fate, scrivete tutto quello che volete, però non a casa mia, io non me la sento di sostenervi in questo e quindi Mari non glielo dai. E nel momento in cui sono l'ottanta per cento delle persone che ragionano così capite bene che la libertà di stampa è in difficoltà, ma questo è un fenomeno che può avvenire ovunque, che non dipende assolutamente da presunta dittatura oppure il fatto che il governo sia molto autoritario, non c'entra assolutamente niente, è una cosa fisiologica delle persone, di come avviene in qualsiasi paese in cui il capo politico gode di grandissima popolarità, è inevitabile che tutte le voci contrarie incontrino difficoltà, il che vuol dire che non ci siano. Per esempio, io ho parlato prima dei giornali che ci sono, ma anche nelle reti televisive controllate o comunque fedeli al governo, quando ci sono i talk show, nei dibattiti, vengono spesso invitati giornalisti o opinionisti di opposizione, magari sono violentamente contrari per esempio alla guerra in Ucraina, magari sono ucraini a se stessi, vengono invitati senza nessun problema. Perché? Perché tanto sanno che la gente non crede a queste persone o comunque sì, gli lasciano parlare per esprimere il loro punto di vista che però magari poi viene ridicolizzato, ma non intenzionalmente intendo, però nel momento in cui tu sei su uno studio e hai tutte le persone contro di te, comunque, sì, tu sei liberissimo di esprimerti, questo non viene tolto, ma il tuo messaggio comunque viene fortemente indebolito. Ecco, questo volevo dire. In pratica la libertà di stampa è in difficoltà, il che non vuol dire che i russi non conoscano, non vedano il messaggio, come dire, il messaggio alternativo. I russi sono quelli che leggono i giornali, guardano la televisione, vedono anche e sentono i messaggi dell'opposizione, li conoscono benissimo, il problema è che non fanno presa. Ecco, questo volevo dire, magari in futuro se avete qualche domanda vi prego di farla, se avete qualche caso di cui avete sentito e che insomma sembra un attimo in contraddizione con quello che vi ho raccontato adesso, fatemi pure sapere e mi informerò. Va bene, vi saluto, ciao ciao!